Ed eccoci qui in studio, benvenuti cari telespettatori e diamo il benvenuto alla Presidente dell'Associazione Mattia Facciolla, benvenuta a Teresina Intrieri. Grazie per aver accettato l'invito, buon pomeriggio e addentriamoci subito nel vivo dell'intervista. Abbiamo detto Presidente dell'Associazione Mattia Facciolla, un'associazione nata con l'obiettivo di fare la differenza nella vita dei bambini affetti da malattie cardiache congenite, anche delle loro famiglie all'interno del territorio. Tale intervista ci propone appunto di informare i telespettatori della presenza di tali enti che operano appunto sul nostro territorio e sensibilizzare i telespettatori perché con un piccolo gesto possono veramente far qualcosa in realtà di grande, quindi questo è il nostro auspicio. Io do la parola a te perché vogliamo subito sapere delle origini di questa associazione che opera da ben 11 anni sul nostro territorio. 14? Allora, perdonatemi, non è aggiornato il sistema. 14 anni, rettifico. Ben 14 anni sul nostro territorio. Sì, sì, sì. Sì, l'associazione è nata appunto 13 anni fa diciamo perché è nata purtroppo per una causa brutta che è stata la perdita di mio figlio Mattia che all'età di 12 anni e mezzo ha avuto un arresto cardiaco e purtroppo non ha avuto la possibilità di viverla questa vita. A distanza di tempo ho deciso, appunto abbiamo deciso, io ho un gruppo di mamme, di bambini cardiopatici di far nascere questa associazione visto che qua in Calabria non c'erano punti, centri di riferimento dove queste famiglie potessero rivolgersi e quindi è nata con un obiettivo veramente importante visto che in Calabria non abbiamo centri di riferimento né di cardiopirurgia né di cardiologia pediatrica diciamo a livelli interventistici, quindi l'importanza di dare dei servizi effettivamente almeno dalla parte dell'associazione di comunicazione di informazioni utili alle famiglie nel momento in cui avessero avuto un problema come il mio, trovare un punto di riferimento qui in Calabria e questo è stato l'obiettivo primario che ci ha portato appunto a, in fondo ci ha fortificato anche sotto questo aspetto perché magari c'è un qualcosa qui, di solito si fa il copia e colla, noi non abbiamo mai pensato di fare nessun copia e colla, abbiamo cercato di dare dei servizi utili, diamo dei servizi utili sia alle famiglie che ai genitori e ai genitori dei bambini cardiopatici soprattutto anche ai bambini, in effetti sono servizi importanti perché molte famiglie non hanno la possibilità economica per questi viaggi della speranza ma noi diamo la possibilità a queste famiglie di avere tutto pagato nel momento in cui hanno la necessità di andare presso i centri di riferimento di tutta Italia quindi mi pare di capire che sono proprio la vostra dedizione, il vostro amore, il vostro impegno e le fondamentali occupagge del vostro lavoro cioè siete le menti che innovano e i cuori che si spingono oltre che non conoscono i confini quando si tratta di donare una speranza e questo vi fa veramente onore poi leggevo che comunque un altro vostro obiettivo fondamentale è la prevenzione negli anni comunque voi vi siete occupati molto di questo andando ad introdurre anche nuovi concetti, nuove iniziative, anche nuovi progetti per quanto riguarda l'associazione, come leggevo screening comunque è una cosa che fate addirittura solo voi a livello locale e quindi perché, come mai? Allora, intanto ho voluto creare i servizi quindi questa è un'associazione multidisciplinare, con molte discipline quella più importante era quella di fare screening di prevenzione su bambini sani una delle, oltre a fare tutto quello che facciamo per le famiglie e i bambini cardiopatici quindi abbiamo voluto creare un qualcosa, un contenitore dove le persone potessero trovare diciamo dei punti di riferimento per le loro problematiche in effetti è stato bellissimo perché fare uno screening cercare di fare uno screening in Calabria su bambini sani ma non uno screening di fare l'elettrocardiogramma solamente o di fare la saturazione o altro no, noi facciamo uno screening a 360 gradi cioè facciamo l'elettrocardiogramma, la saturazione, ecocardiogramma, ecocardiografia e visita cardiologica è completo, cioè voglio dire veramente sono tanti anni pensate che in tutti questi anni che ci siamo abbiamo scrinato circa 3.000 bambini sono tanti e considerate un fattore che è molto importante abbiamo trovato circa un 10% con delle problematiche questa è una cosa importante perché famiglie che non sapevano assolutamente che i figli avessero questo problema solo attraverso questo screening sono riuscite a scoprirlo che poi hanno piccole e medie cardiopatie però c'erano quindi questa è una cosa importantissima è importante rendersene conto comunque prendere conoscenza di un fattore noi siamo collegati con il bambino Gesù a Roma e da noi viene periodicamente il primario dell'emodinamica del bambino Gesù che è il dottore Paolo Guccione che è davvero un illuminare sotto questo aspetto che salutiamo perché immagino si starà guardando è bellissimo perché si ricoccola poi si viene a controllare tutti i suoi bambini che opera insomma è un aspetto molto bello di questa nostra società calabrese poi come siete riuscite a stabilire dei rapporti significativi con le famiglie? attraverso i pediatri intanto noi siamo in collaborazione con i pediatri la maggior parte dei pediatri di Cosenza infatti nel 2020 abbiamo fatto il primo congresso calabrese sulla cardiologia pediatrica dove sono stati due giorni di Kermes di vari illuminari della cardiologia è stata una cosa veramente bella dove abbiamo invitato medici di base pediatri, famiglie, infermieri cioè operatori che sono tutti in questo ambito proprio per far capire guardate che noi ci siamo stessi cosa a disposizione c'è nel procinto un altro un qualche altro congresso qualcosa una prossima iniziativa non lo so ci sono delle altre iniziative che sono in embrione ancora almeno a livello sanitario a livello cardiologico perché ecco organizzare qua questo tipo di di congressi workshop è difficile perché poi devi far venire persone che veramente devono raccontare quello che è la realtà insomma non è sempre facile anche perché ecco noi siamo un'associazione che noi non abbiamo niente da nessuno c'è nel senso noi viviamo sulle raccolte fondi e sui 5 per mille e basta non abbiamo aziende che ci come si dice che vogliono aiutarci a portare avanti questi progetti di vita ma anche persone semplici no? con un semplice magari versamento magari ci fanno no non ci sono qua perché il problema qua è che ci sono troppe associazioni troppo amici degli amici e non guardano effettivamente quello che c'è oltre cioè effettivamente questa associazione che può dare veramente è un valore aggiunto alla società e questo è quello che vi dispiace tanto molte volte ad esempio sapete che c'è una festa qua dal 13 ottobre a Rende abbiamo chiesto noi di sponsorizzarci perché il 22 di ottobre faremo diciamo una passeggiata solidale con i cosplay per i bambini che è una cosa bellissima è la seconda edizione la prima l'abbiamo fatta l'anno scorso e quindi noi chiediamo che qualcuno ci dia una mano perché insomma le spese ci sono per fare insomma tutte queste iniziative e poi contribuiscono un pochino ad aiutarci come associazione beh ci hanno detto tutti no? ma come l'anno scorso la stessa cosa no? ma questo è un periodo brutto oppure abbiamo già dato ad altri abbiamo fatto sponsor questa cosa fa rabbia fa un po' rabbia lasciami dire perché comunque si spendono così tanti soldi per cose veramente futili inutili no? e poi veramente per le cose importanti invece non si presta la giusta attenzione non non si dà la giusta importanza certo questa è la parola giusta hai detto non si dà la giusta importanza al messaggio che noi diamo e guardi mi deve credere che è deludente poi ci pensiamo noi a sponsorizzarci lo stiamo già facendo in questo momento e quindi quando sarà? il 22 ottobre 22 ottobre è programmata per il 22 ottobre quindi oltre comunque donare è una forma d'amore quindi comunque la donazione è libera voglio dire in qualunque momento tra 5 per 1000 come abbiamo detto e da tenere presente che hanno quel punto di riferimento perché nessuno è immune da niente quando noi facevamo facciamo lo screening a questi bambini sani molti genitori dicono no vorrei raccontare un'anettota che è successo qualche anno fa con un cardiologo che è venuto a farci degli screening ai nostri bambini c'era una mamma che era venuta a fare lo screening al figlio più grande che doveva andare a calcio e quindi è venuto da noi così aveva questi due bambini e ci disse dopo che ha fatto lo screening tutto bene non ci sono problemi gli ha detto al dottore che posso dire benissimo che è il dottore Bellieni che è un grande un grande cardiologo però non è di qua ma è della zona di Catanzaro ed è pure in pensione però ecco si era messo a disposizione per aiutarci a far sì che fare questi screening beh una cosa allucinante la mamma ci chiese non è che è possibile farlo anche un bambino piccolo un bambino di 4 anni e il dottore Bellieri si dici dai vieni vieni non ti preoccupare gli abbiamo fatto tutto prima l'elettrocardiogramma e tutto il resto a un certo punto dopo che abbiamo fatto l'elettrocardiogramma l'abbiamo portato al dottore e il dottore ha detto ma qui c'è in corso una sindrome di Brugada cioè la sindrome di Brugada è la morte improvvisa non si sa perché c'è una sindrome bruttissima cioè muori basta e noi ci siamo subito attivati lui attraverso il dottore Guccione si sono parlati eccetera eccetera ed è riuscito siamo riusciti a portare questo bambino a Roma genitori naturalmente e questo è l'epilogo bellissimo perché dopo tre giorni era già a casa meno male quindi è fortuna volete non lo so come si può chiamare però ecco questo è quello che voglio far capire la signora ha fatto al bambino grande l'elettrocardiogramma il controllo però facciamolo anche al piccolo meno male ecco ha avuto questa grande idea perché poi parte tutto dai genitori noi non ci possiamo permettere di chiedere altro già avercele è stato per noi una grandissima cosa perché c'eravamo nel panico era la prima volta che ci capitava una cosa del genere cioè di questa subitanea e poi siamo riusciti l'epilogo è stato bellissimo però male un'aneddoto io ho detto ma adesso sarà qualcosa di bello o di brutto perché invece è bello quando si conclude così anche per far capire quale sia l'importanza della prevenzione anche comunque anche se quella è dovuta al caso fortuito ma comunque siamo riusciti a prenderla in tempo tra virgolette grazie sì sì noi ecco questa è la cosa importante noi ad esempio abbiamo anche un'oltercardia che è un patch cioè un piccolo aggeggino che si posiziona non ci sono fili non c'è niente il bambino si può muovere tranquillamente può monitorare fino a 160 ore ecco è importantissimo questo no? se vai in ospedale e chiedi di fare un oltre a parte che ci vogliono le calende greche ma non trovano questo tipo di oltre quindi tutto ciò che diamo è un qualcosa di diverso certo un'altra cosa importante che noi facciamo quando troviamo delle famiglie che hanno dei bambini con delle cardiopatie complesse praticamente gli facciamo fare il corso di primo soccorso alla famiglia e diamo in comodato d'uso gratuito il defibrillatore perché nel momento in cui malaguratamente ma anche qualcun altro che sta a mano un solo il figlio sanno come fare come agire ecco questo è un'altra cosa un altro servizio importantissimo che diamo un altro servizio invece è una macchinetta che misura il Qumadel perché molte volte sono bambini che devono misurarlo per non fargli andare in ospedale diamo un dato d'uso gratuito anche la macchinetta farseli a casa e comunicare i dati poi all'ospedale per avere appunto la cura e tante tante altre cose che ad esempio sui bambini sani molte volte non molte volte abbiamo proprio un programma fatto per le scuole calcio sì dove abbiamo preso dei cardiofrequensimetri andiamo a metterli sui bambini piccoli diciamo che vanno per la prima volta a salire diciamo all'età di 5 anni a salire e sono o dei braccialetti oppure sono dei diciamo o al braccio o al polso noi attraverso un iPad monitoriamo appunto se la saturazione del bambino è alta e bassa quando corre quando sta fermo eccetera avevo letto di questa se troviamo delle anomalie se ci sono delle anomalie subito l'attiviamo e li portiamo per fare lo screening completo questo è tutto gratuito che diamo la possibilità diciamo alle strutture sportive di tutti i tipi di fare questo tipo di screening così senza niente questo perché ecco sempre per la prevenzione prevenire è importantissimo è meglio che curare certo comunque l'associazione è quota di un'equipo di professionisti che riescono a fronteggiare le difficoltà con la loro competenza e adesso noi li vogliamo conoscere certo allora abbiamo una serie di professionisti che vengono da noi sempre per lo stesso fine noi abbiamo una psicoterapeuta che è una la nostra psicologa è psicoterapeuta che fa appunto sui bambini sui bambini che non devono essere necessariamente cardiopatici ma la famiglia ecco si fa un programma sulla famiglia e molte volte ecco la psicologa ha bisogno di ascoltare magari un logopedista o qualche altro professionista attinente al suo lavoro cioè la nostra è un'equipo tra di loro fanno delle valutazioni multidisciplinari diciamo per più discipline e questa è la cosa più importante perché molte volte tu vai dal medico e ti dici sì mi fa male il pancino sì ho il dolore qua non ti preoccupare prendi questo no noi andiamo alla causa perché gli fa male il pancino ecco è un esempio diciamo che ho fatto però funziona così in più diciamo abbiamo un ortodontista perché è l'ortodontista perché è importantissimo per chiarirlo l'ortodontista è una persona è un medico che è proprio un medico chirurgo che fa questo lavoro viene da Bologna è una persona veramente che si è messa a disposizione con l'associazione ecco persone serie che gli piace lavorare e aiutare gli altri lui praticamente attraverso delle valutazioni che fa o la postura o un problema di domesticazione o altro la visita che fa ti dice se il bambino ha delle problematiche o meno anche la scoliosi addirittura e questo è un altro screening importante un altro screening importante è quello odiometrico perché ci sono molti bambini che magari tu li chiami noi genitori li chiamiamo fanno finta loro dicono fanno finta di non sentire magari effettivamente non sentono oppure magari fanno finta di non sentire però ecco noi gli facciamo una valutazione se effettivamente il bambino ci sente bene o non ci sente bene e questo è importantissimo e oltre a questo diciamo come se già non fosse tanto oltre a questo abbiamo invece pensato anche di aiutare le mamme o i papà aiutarli in che senso intanto far capire che è importante fare un'alimentazione sana per i figli ma soprattutto anche per i genitori cioè imparare a mangiare in modo sano perché si escludono le malattie si escludono le malattie tante patologie tante allergie tante cose quindi abbiamo una dottoressa nutrizionista biologo nutrizionista che fa delle valutazioni attraverso un macchinario che è fatto diciamo in modo specifico per questo cioè inserisce ad esempio lei prima di far venire le persone gli fa fare tutti gli accertamenti come le analisi del sangue e tutto il resto e attraverso lei poi la inserisce diciamo in questa macchina dopo che fa tutta la valutazione anche una persona che magari prende dei farmaci ecco attraverso questa valutazione ti dice che tipo di alimenti tu puoi inserire nella tua dieta quotidiana ed è un altro grande servizio importante e tanto 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 è importante perché vedete quando si parla di salute davvero ti devono brillare gli occhi perché è così breve il passaggio su questa terra io non ho avuto la possibilità di crescere mio figlio però lo sto facendo con gli altri con molti bambini che mi fanno richiesta di aiuto io ci sono sai quanti bambini ovviamente mi dispiace non essere entrata a conoscenza prima di questa realtà però immagino che ci sono veramente tanti bambini e tanti genitori che ad oggi debbano dirti grazie quindi sì siamo veramente orgogliosi di questo anche perché ho un'equipe bellissima ognuno si occupa di qualcosa quindi chi parla con noi in base al problema che ha lo affidiamo alla persona che si occupa del loro problema abbiamo un avvocato che è una donna stupenda veramente che si occupa di tutta la parte legale per quanto riguarda il diritto del bambino e leva personalmente l'IMSI dove c'è la necessità per risolvere il problema e finché non finisce non lascia niente in sospeso ecco tutte queste persone che ruotano girano intorno a questa associazione lo fanno gratuitamente prendono il loro tempo tempo della loro vita della loro famiglia dedicano quelle ore che possono e questa è la cosa più bella io sono orgogliosa di questa bellissima realtà spero veramente che anche altri volontari si aggreghino a noi per fare tante altre cose perché più siamo e meglio è più riusciamo a dare e meglio è io penso che non ci sia altro da dire almeno sotto questo aspetto chiedo solamente alle famiglie di prendere coscienza che viviamo in una regione purtroppo per quanto ci possiamo prodigare non fate prendervi in giro ma come si dice cercate le strade giuste per risolvere i vostri problemi perché purtroppo se no non ci andrà mai da nessuna parte questa intervista lo ribadiamo era volta a far conoscere queste realtà che operano all'interno del nostro territorio perché era veramente molto importante spero che sia arrivato un messaggio a voi tutti e noi comunque allegheremo sotto il link anche per la pagina perché siamo su Facebook Instagram ho visto abbiamo tutti i social quindi andiamo anche di pari passo con l'evoluzione tecnologica non ci manca niente e quindi mi raccomando per quanto riguarda la donazione e anche l'adesione per quanto riguarda questa giusta causa quindi adesso sta a voi la nostra Teresina ci ha già illustrato benissimo di cosa ci occupa l'associazione però non ha detto tutto perché ci sono tantissime altre cose che potrete scoprire solamente entrando a contatto con questa realtà far del bene è sempre bello aiutare il prossimo è una forma d'amore come dicevamo prima e quindi adesso sta a voi mi raccomando noi speriamo di esservi entrate dritte nel cuore quindi di avervi lasciato qualcosa noi Teresina che dire abbiamo detto tante cose dobbiamo soltanto fare un breve cenno magari alle iniziative e ai progetti che intende sposare l'associazione o comunque a cui ha aderito dopodiché possiamo concludere l'intervista salutando i nostri telespettatori dandoci appuntamento magari in associazione che ha sede che non l'abbiamo detto a Bagliolise a Cosenza presso la stazione ferroviaria l'ultima palazzina poi magari mandate in sovrappressione anche i nostri dati in modo tale che le persone prendano contezza poi non c'è bisogno che ve lo dico io come potete fare e niente chiamateci perché qualsiasi esigenza o necessità che avete chiamateci che ci metteremo sicuramente a disposizione vicino al vostro cuore ci siamo ecco ed ecco in questo dolce messaggio che io vi auguro una buona serata e vi do appuntamento alla prossima puntata del format una buona serata da me e Teresina buonasera grazie a tutti